La Corte Costituzionale ha bocciato la norma del suo governo che bloccò le indicizzazioni delle pensioni sopra i 1.443 euro lordi per il biennio 2012-2013. Io mi domando che cosa ci sia di spagliato in un momento così tragico della vita del Paese nel chiedere a persone che comunque hanno una pensione non proprio bassa un piccolo sacrificio in aggiunta a quelli che invece si chiedono, a quelli che lavorano e che magari sono anche più in difficoltà. 1.500 euro lordi non si possono considerare pensioni alte? No, e se noi avessimo avuto un'altra situazione nessuno avrebbe abbassato il livello fino a 1.500 euro lordi. Posso dire, 15 novembre 2011, questo era fate presto, fate presto. C'era questo drammatico senso di essere in prossimità di una crisi finanziaria che, se sembra una frase astratta, vuol dire non trovare i soldi per pagare gli stipendi normali, per pagare le pensioni. Ci fu una riunione della cabina di regia. La cabina di regia comprendeva Mario Monti, comprendeva Grilli, comprendeva Giarda, comprendeva Passera e lì fu proprio discusso esattamente questo provvedimento, col fatto che loro dicevano questo va fatto e io dicevo non possiamo farlo sulle pensioni basse. Viene tutto attribuito a me. Questo fu un provvedimento del governo, nel suo insieme, a riflettere esattamente quella tragica situazione nella quale ci trovavamo. C'era bisogno di dimostrare che si riduceva fin da subito la spesa pubblica. Abbiamo sbagliato? Come si fa a sapere dopo se quello era un'esagerazione? Come si fa a sapere dopo se esageravamo, se potevamo stare un po' sotto quelle misure? A me sembra molto strano che la Corte non abbia compreso questo senso e mi sembra francamente strano che non si ponga il problema di come saranno finanziati adesso questi 5 milioni miliardi che sono il costo complessivo di questa operazione. Lei si è sentita abbandonata tra i suoi vecchi colleghi di governo? Io mi sono sentita abbandonata quando è stato deciso di dare una connotazione politica al nostro governo. Lì sì, perché noi eravamo dei tecnici e quindi noi avremmo dovuto chiudere come tecnici. Questa è la mia opinione. Cioè non è stata d'accordo con la discesa in campo? Nessuno me l'ha chiesto, ma io quello l'ho sofferto. Ecco, diciamo che l'ho sofferto. Si è sentita un po' isolata? Vorrei poterle dire di no, ma temo di doverle dire di sì. O poi. O più.